salve a tutte e tutti dal vostro santo cian incredibile in questi giorni ho visto dei video youtube di come rendi il presidente del consiglio dei ministri il primo ministro si sia prodigato nel suo parlare inglese che strano eppure io sapevo che oggi parlava inglese era americano guanna ganna e invece mi sono ritrovato con la riedizione del demitese di come parlavano il politichese nella prima repubblica venita ciancimino formiconi i segni libri soltanto cammino parlavano il dialetto qualche dialetto del sud invece renzi è andato a parlare così politichese in un inglese che non sa parlare a fare la figuraccia in america e poi a che tempo che fa da franzio diceva io c'ho l'appel io c'ho l'appel ma che cazzo ci dici nella altro che poi cita steve jobs grazie al cazzo lo sanno tutti che era sua l'appel poi morto e rimasta gli altri ma tu che ci dici nella parla in inglese così adesso è uscito l'ultimo che costa quasi 2000 dollari e ci parli così nella per vabbè ognuno ma tratta i cellulari come vuole poi io mi chiedevo ma come mai che tutti ci stimavano sandro pertini e quando andava a parlare a destino anche negli stati uniti parlava in italiano e decenni in anni gli stati uniti fa questa figura di merda parlando anzi non parlando in inglese ecco ecco qual è la differenza tra sandro pertini e matteo renzi che fra l'altro a 39 anni e io ne ho quasi 46 sarei meglio io come presidente del consiglio degli ministri e anche come segretario del partito democratico a te ti rendi conto sandro pertini era rispettato in tutto il mondo in tutto il mondo andava parlare solo in inglese e si evitava queste figuracce di merda invece matteo renzi va in tutto il mondo parla in quell'inglese che non si capisce una muta e lui magari non sente di fare una figura di merda ma ci fa fare una figura di merda a tutti noi e invece dove andava sandro pertini che io da giovani quando avevo 12 anni sono andato al quirinale e ci ha accorto sandro pertini e non è vero e quando io ero giovane e non è vero dicevo questo atteggiamento servile mi fa venire in mente la forma di comportarsi di molti politici del terzo mondo che senza saper parlare in inglese ricevevano i mandatari statunitensi come dei grandi vettini e troni supini dicendo che se li e umiliandosi senza dignità termine in questo video metterò dei filmati se li trovo di cui di quello che sto parlando però è veramente triste che un premier italiano il presidente del consiglio dei ministri faccia delle figure da terzo mondo da presidente della repubblica bananera che riceve un presidente nord americano dovrebbe pensarci di più che abbia la stessa dignità di pertini all'estero che parlava in italiano ci faceva orgogliosi non che ci fa fare per la solita figura di merda vabbè comunque molti dicono in internet ma tutti voi che lo criticate al posto suo va bene a un conto e sbagliarsi a parlare per l'emozione un altro anche sbagliare a parlare perché non si sa parlare in inglese magari sapeva che magari no ecco magari si sbaglia anche l'italiano poi col telefonino di steve job natale che che cazzo si dice se una cosa avevo e ecco vabbè però non so perché la classe politica italiana è sempre così sempre così beh non dico niente se no mi censurano youtube poi io sono youtube sempre così come direi ma avete capito no tutti 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 poi ecco adesso fra tre mesi ci saranno elezioni ma perché votare o per chi votare io sono demoralizzato perché si credeva che il movimento 5 stelle sarebbe stato un grande una grande svolta un grande cambiamento invece invece no continua la seconda repubblica che non è finita con dei nuovi protagonisti che hanno semplicemente contrattato nuove forze nuove posizioni di potere e si sono ripartiti la torta di nuovo allora è tutto demagogico popolare l'opposizione che fanno perché alla fine convivono con tutti gli altri non sono riusciti a cambiare niente io sono demoralizzato certo se non fossi occupato a fare dei video voi tutti potreste fondare un movimento prendendo i bagni del mio canale il movimento sante gian allora io io scenderei nella politica vendrei da voi voi dovete raccogliere firme andare il movimento e chiamarli e io sarei il segretario generale il segretario nazionale del movimento sante gian se no non scendo politica se voi potrei volete 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 convirti vedo se volete sarò in maniera io sono disponibilissimo disponibili disponibili vivissimo posso scegliere bodico certo toglierò del tempo a video di youtube però se fare uno sforzo per questo magari farò dei video facendo politica e quindi fondate il movimento raccogliete film raggiungete una massa critica affittato un locale ed io vengo raccogliete film e io vengo come segretario generale però ecco volevo dirvi di questo della forma di fare figuracce perché non parla in italiano non ci abbiamo più noi dignità nazionale che è meglio fare i tagliacci parlando in inglese che le persone serie parlando in italiano non ci facciamo più rispettare non abbiamo più di rispetto per il nostro idioma l'idioma di dante di virgilio di omero omero no manzoni di travaglio i viaggi di folcoquillici ed anche in anni noi e di frassica direttore poi un'altra cosa che io ho mandato molti video a italina dei però non si è saputo più una città che ne hanno fatto comunque io tra poco trasmetterò i miei italina dei perché gli aggirati non so se li trasmetteranno la rai ma li trasmetterò io me ne farò carico quindi fra poco ci sarà italiana dei di santi gian un giorno nella vita di un italiano io perché la rai promette promette e non mantiene bene c'è altro dire niente vi lascio speriamo che vi piaccia a presto ciao seguitemi in streghe instagram e qualsiasi altro luogo cercate in internet santi gian ciao grazie a tutti La mia madre, la mia madre, la mia madre, la mia madre... La mia madre... La mia madre è stata in un paese a tutti i paesi che hanno offertato i carrizi per la Tsinghapuriana. ecco qua un politico del terzo mondo che parla in inglese facendo la figura del pagliaccio il ruolo interpettation of our monetary system which some people like to identify with full dollarization of our economy prevented the central bank to conduct monetary policy limited but anyway some degree of monetary policy that could have helped to soften the impact of this deflation on the contrary there was no there was a monetary policy that was contractionary because the central bank in the three year period sold most of its stocks of treasury bills and governmental bonds and by selling that stock was absorbing liquidity all the time so the combination of these three phenomena send argentina into a depression a phenomena like the one that you suffer here in the united states those that are america north america during the euro they can save in euro if they feel secure with the peso they can save in peso that is what argentinians love because argentinians know that by having this particular monetary system in argentina speaks of evaluation of monetary it is only a pro that some people still think that che c'è un'evaluazione come in Brasil, è qualcosa che non può succedere in Argentina.